Il rotocalco di buone notizie, Reggiani per esempio, torna nelle vostre case dopo circa due mesi di pausa. Il 19 dicembre scorso, nell'ultima puntata, ci eravamo dedicati all'incontro avvenuto nella Sala del Tricolore dove il sindaco Graziano Del Rio aveva ringraziato i rappresentanti dei 175 progetti che avevano vinto il bando. Riprendiamo quindi da qui il nostro viaggio, la scoperta di alcuni di questi progetti di cittadinanza attiva che hanno ricevuto il sostegno economico da parte dell'amministrazione comunale. Il disagio giovanile e il protagonismo dei ragazzi sono al centro del progetto ideato dalla polisportiva Il Foscato di Reggio Emilia che si è posta all'obiettivo di dare vita all'interno del circolo ricreativo La Centrale di Via Gorizia a un luogo di aggregazione dedicato agli adolescenti. Ma ascoltiamo come e perché dalle parole di due delle organizzatrici che sono Paola Regnani e Milena Bertolini. Tra i progetti finanziati dai reggiani per esempio c'è un progetto che si chiama La Centrale. Perché La Centrale? Qui siamo all'interno della vecchia centrale di Via Gorizia che è stata recentemente ristrutturata. La polisportiva Foscato ha preso in gestione questo spazio e ha deciso di lanciare questo progetto, un progetto appunto chiamato La Centrale, che è uno spazio di aggregazione giovanile destinato ai ragazzi delle scuole superiori. Qui con noi c'è Paola Regnani che è un'educatrice. Allora cerchiamo di spiegare che cosa si propone di fare questo progetto che avete presentato. Allora questo è un progetto che vuole essere un centro, un centro giovani, uno spazio di aggregazione per i giovani delle scuole superiori. E noi vorremmo organizzare assieme ai ragazzi, che qui potranno diventare dei partecipanti attivi di questo spazio, in modo da sentirlo veramente loro, vorremmo organizzare diverse attività di svago, di attività sportive che saranno svolte per lo più all'esterno. Ci sono campi da calcio, campi da tennis, c'è un ampio spazio verde. E vorremmo organizzare anche delle attività aggregative, dei laboratori, degli spazi computer, degli spazi lettura, degli spazi rivolti alla musica, coinvolgendo un po' i ragazzi in tutte quelle attività a cui loro sono interessati. Questo sarà uno spazio libero e aperto. Voi avete contattato e coinvolto anche delle scuole superiori. Quali? Allora noi abbiamo coinvolto cinque istituti superiori per ora, che sono lo Zanelli, il Chierici, il Matilde di Canossa, il Bus Pascal e il Liceo Moro. Abbiamo contattato i dirigenti scolastici a cui abbiamo presentato il progetto e attraverso di loro abbiamo già fissato alcuni incontri con i rappresentanti degli studenti, in modo da iniziare con loro i primi gruppi di lavoro, perché questo vuole essere uno spazio pensato assolutamente con i ragazzi. Milena Bertolini è responsabile della polisportiva. Quali saranno le attività di questa polisportiva e soprattutto i tempi e i modi di organizzazione? La polisportiva Foscato è una polisportiva di riferimento di questa parte della ex circoscrizione 3. È una società sportiva che fa attività di calcio, ma non solo, gestisce centri educativi. E diciamo che è una polisportiva un po' atipica perché è molto importante sull'aspetto educativo. E da qui l'idea di prendere questo spazio, creare un grande centro di aggregazioni per i ragazzi, perché noi pensiamo che lo sport, l'arte, la cultura, l'estetica possono convivere assieme, coesistere e dare un valore aggiunto. Come si organizzeranno? Quindi per contattarvi come potranno fare? Per contattarci noi abbiamo il sito della polisportiva www.polisportivafoscato.com L'email di riferimento è info-polisportivafoscato.com E quindi chi volesse contattarci, chi volesse partecipare, ma questo vale non solo per i ragazzi ma anche per i genitori interessati perché questo progetto noi riteniamo che sia anche importante per i genitori perché è un posto dove loro possono stare tranquilli, dove i loro ragazzi sono in un posto protetto. Quindi se chi ci vuole contattare ci può contattare a questi recapiti, a questi indirizzi. Il progetto Up and Go ha rappresentato per 28 ragazzi reggiani un'importante esperienza di vita, un viaggio di vacanza e di studio durante il quale hanno potuto mettere alla prova i propri limiti, le proprie capacità e realizzare tanti sogni. Lo scorso 15 dicembre i viaggiatori si sono ritrovati insieme agli amici, alle famiglie, nella sede di Dar Voce per raccontare la propria esperienza. Mostrare agli amici le fotografie di un viaggio e condividerne le emozioni è quello che succede in queste immagini girate presso il Centro Servizi per il Volontariato Dar Voce. Il viaggio però non è un viaggio qualsiasi, sono i quattro viaggi realizzati nell'ambito del progetto Up and Go. Ma cosa c'è dietro un nome così esotico e altisonante? Up and Go è un progetto finanziato dalla Commissione Europea, ha coinvolto circa un centinaio di ragazzi diversamente abili dall'Emilia Romagna, 20 per la provincia di Reggio Emilia ed è stato gestito in collaborazione tra i centri di servizio per il volontariato regionali, tra cui Dar Voce per Reggio Emilia e in collaborazione con la realtà della cooperazione e associazione di volontariato. Il progetto ha previsto dei tirocini di studio, lavoro e esperienze culturali di socializzazione in quattro paesi per 15 giorni. I paesi sono stati l'Inghilterra, Londra e Plymouth, Granada in Spagna e un paese della Lituania, dove i ragazzi sono stati accolti in queste strutture che hanno permesso loro di fare dell'esperienza di preparazione linguistica, ma anche culturale e anche delle brevi esperienze laboratoriali e di lavoro in diversi ambiti. All'esperienza hanno partecipato 28 ragazzi reggiani tra i 18 e i 35 anni, divisi in quattro gruppi. Ogni gruppo era composto da cinque ragazzi con disabilità o disagio sociale e da due accompagnatori volontari. Londra, Plymouth, Granada. L'occasione di visitare luoghi diversi, ma soprattutto è stata vita insieme, relazione strettissima tra orari da rispettare, lavoro o scuola, cena da preparare, nostalgia da consolare, amicizie e amori da coltivare. I risultati ce li spiega un genitore. Io sono un genitore di un ragazzo diversamente abile, che ha partecipato al secondo gruppo che è andato sull'Inghilterra. E niente, sono praticamente molto contento per come è venuto a casa mio figlio. Cioè nel senso che ho trovato un'altra persona che comunque ha vissuto un'esperienza veramente intensa di integrazione in un gruppo. Quindi una persona che comunque ha vissuto intensamente le due settimane, e ringrazio proprio Darvoce che ha dato la possibilità a mio figlio di venire a casa più sicuro e più tranquillo, con un'esperienza sicuramente positiva. Il 7 gennaio scorso, nell'anniversario della nascita del tricolore, hanno preso il via da Reggiamiglia anche le celebrazioni per i 150 anni dell'Unità d'Italia. In questa occasione sono entrati all'opera anche i nostri reggiani, per esempio. La signora Luciana Mattioli, sarta di Via Secchi, ha cucito 500 bandiere tricolori per altrettanti cittadini che le hanno esposte alle finestre. Ognuno ha fatto un'offerta e la somma ricavata è stata consegnata al grade, il gruppo Amici dell'Emetologia. Ma vediamo il servizio che è stato realizzato dal nostro Tg Reggio. Ho fatto un 385 bandiere, che io ero partita per farne 40-50, e abbiamo raccolto 1835 euro. Io personalmente, perlomeno, sono molto orgoglioso di quello che i reggiani hanno dimostrato in quella giornata. Ha avuto successo l'idea della sarta Luciana Mattioli di distribuire bandiere tricolori in occasione dell'anniversario del 7 gennaio per raccogliere fondi a favore del grade, gruppo Amici dell'Emetologia. Quella delle bandiere tricolori è una delle oltre 150 iniziative realizzate negli ultimi due anni a favore dell'Associazione, per una montare di quasi mezzo milione di euro di offerte. L'obiettivo è la costruzione di un nuovo fabbricato nell'area dell'Arcispedale, che ospiterà i reparti di ematologia e oncologia, la chirurgia oncologica e il servizio di endoscopia. Adesso c'è l'assegnazione dell'appalto alla dita costruttrice e l'apertura del cantiere dovrebbe essere prevista per febbraio-marzo di quest'anno. Quindi speriamo che i tempi di fine 2013 possano essere rispettati, così come è previsto dall'amministrazione dell'ospedale. Il nuovo centro diventerà sede del futuro IRCS, istituto di ricovero e cura a carattere scientifico, cui il Santa Maria Nuova si è candidato. Significa portare ad uno standard decisamente più elevato rispetto a quello attuale. Per quanto riguarda, posso parlare per esempio per l'ematologia, per noi vuole dire aumentare il numero di posti letti, aumentare il numero di stanze di camere sterili, portare a sei stanze singole. La struttura complessa di ematologia dell'Arcispedale Reggiano svolge un'attività intensa. Noi seguiamo in dei hospital circa mille pazienti ogni anno e quest'anno, nel 2010, l'anno scorso, abbiamo ricoverato oltre 200 pazienti. Ed ora, prima di chiudere il nostro rotocalco dei Reggiani, per esempio, veniamo ad alcune notizie. L'8 febbraio si è tenuto un incontro formativo rivolto ai gruppi di cittadini che hanno ricevuto il contributo assegnato con il bando dei Reggiani, per esempio. L'incontro è stato tenuto dall'avvocato Erika Brindisi, consulente di Darvoce, e ha fornito ai partecipanti tutte le indicazioni necessarie per costituirsi in associazione. La Gabella, il centro di aggregazione sotto l'arco di Via Roma, festeggia cinque anni di attività con una serie di appuntamenti che accompagneranno la prima parte dell'anno. Il programma, realizzato grazie al contributo dei Reggiani, per esempio, ha preso il Via lo scorso 26 gennaio con un incontro dedicato alla figura dell'anarchico Enrico Zambonini, figura di primo piano nella lotta ai fascismi in Italia e in Spagna, fucilato dai nazifascisti insieme a Don Pasquino Borghi. E anche oggi siamo arrivati alla conclusione della nostra puntata dei Reggiani, per esempio. Io vi ricordo, come sempre, che le repliche andranno in onda il martedì mattina alle 10.30, il giovedì sera alle 22.30. E se volete rivedere le puntate dei Reggiani, per esempio, dovete andare sul portale www.reggiani.comune.re.it Noi ci rivediamo la prossima settimana! Grazie a tutti! Grazie a tutti!